Guerra per cielo, per mare, per terra. Comunque guerra. Allarme aereo su tutta l'Ucraina, incontri ravvicinati sopra l'Estonia, Bakhmut contesa e vilipesa, diplomazia appesa e bla bla bla. La cronaca di un giorno qualsiasi di questa terza guerra mondiale a pezzi, che vanno saldandosi, ha i soliti micidiali ingredienti. Mentre ancora si discute di quanto sia grave l'incontro-scontro sul Mar Nero tra un caccia russo e un drone americano, comunque già sostituito, stamattina aerei da combattimento inglesi e tedeschi hanno intercettato un velivolo militare russo sui cieli dell'Estonia e l'hanno scortato fuori dallo spazio aereo di Tallinn, che fa parte della Nato. Episodio minore ma sintomatico di una crescente fibrillazione tra Mosche e gli alleati dell'Ucraina, che resta sempre sotto attacco. Decine di bombardamenti su tutto il paese nelle ultime 24 ore, esplosioni a Kharkiv, ma è sempre Bakhmut l'epicentro del delirio. Pur di prenderla, i russi usano bombe al fosforo, raccontano cronisti sul posto, ordini terribili che bruciano case, cose, persone. I russi li hanno già usati in Siria. Intanto i mercenari della Wagner sono penetrati nell'impianto industriale Asom, dove Zelensky a dicembre distribuiva medaglie ai difensori della città. Il presidente ucraino non vuole ordinare il ritiro dei suoi, anche se le perdite aumentano. Kiev già pensa alla controffensiva e confida nell'impiego dei carri armati tedeschi Leopard, mentre Putin prepara un'altra infornata di giovani uomini e donne da mandare al macello. Dal primo aprile verranno mobilitati altri 400.000 soldati.